È un'estate a dir poco intensa quella che sta vivendo Matteo Salvini. Sul fronte politico continuano i comizi al nord e i mal di pancia con Bossi. Dal punto di vista privato sembra invece che il segretario della Lega abbia ritrovato definitivamente la serenità con Elisa e Suarti dopo lo scandalo e il tradimento. La coppia ha trascorso qualche giorno di relax nei pressi del lago di Garda per concedersi lunghe passeggiate, l'Ukulliani picnic e gite in barca documentate sui social. Uno degli ultimi post di Salvini ha suscitato tuttavia non poca ilarità in rete. Nella foto vediamo Salvini e Elisa Isoardi abbracciati e sorridenti, peccato però che un dettaglio proprio non sia passato inosservato. Sulla fronte dell'onorevole infatti si nota una bella cicatrice che Matteo giustifica così. Sulla fronte il risultato di un incontro ravvicinato, troppo ravvicinato con lo stipite di una finestra. In me che non si dica è scattata l'ironia sui social e c'è chi commenta quando si dice cornuto e ammazziato, chi rilancia, beh io pensavo fosse la cicatrice delle corna tolte. Mentre da Twitter al Senale K riapre la questione immigrati e cinguetta, Salvini con una cicatrice sulla fronte, qualcuno deve avergli detto che era una persiana invece che una finestra, iraniani a casa loro. Infine un utente fa notare una certa somiglianza e scrive, che poi il selfie di Salvini con Elisa Isoardi mi ricorda tanto al boy con Litz, anche a lui hanno tagliato le corna.